Salve a tutti. Oggi, su richiesta di un amico che aspettava da tempo un mio nuovo video, recensirò un titolo parecchio dibattuto. Oltre a dire la mia, farò anche un breve tutorial su come giocarci. Il gioco della recensione di oggi si chiama Receiver. L'obiettivo per la vittoria è subito visibile in questi fotogrammi. Dovete raccogliere 11 nastri registrati con questa voce. Il gioco di fatto non ha una trama ed è uno dei titoli che ha partecipato alla stessa competizione fra sviluppatori a cui hanno preso parte anche gli sviluppatori di Percubarena. Gioco che ho già recensito su questo canale. La competizione si chiamava Seibeness FPS e, come avevo già detto, consisteva nello sviluppare un FPS migliore di quello dei concorrenti in un tempo limite di soli 7 giorni. Neanche a dirlo, questo gioco è un altro FPS Rogue Lake. Quindi anche qui morte permanente e mondo generato casualmente ad ogni partita. Ovviamente Receiver non è solo questo, come avete visto prima, la particolarità di questo titolo è la simulazione molto dettagliata del funzionamento delle armi da fuoco. Il gioco infatti fa iniziare ogni partita in un posto random, con ogni volta un'arma diversa tra le due pistole semiautomatiche e un revolver, abbinate a un numero casuale di proiettili. Altre munizioni, così come la torcia, se già non la si possiede ad inizio partita, potranno essere trovate in giro tra il mondo di gioco, che è ambientato in un complesso di uffici abbandonato. Il giocatore dovrà quindi muoversi di nascosto per raccogliere tutti i nastri, non abusando delle rare munizioni e facendo attenzione alle torrette dai droni, oltre che ad evitare di cadere da posti alti. Per caricare il revolver, avendo le munizioni necessarie, aprite il caricatore dell'arma premendo E, poi buttate via tutti i proiettili capovolgendolo premendo B, e caricate quindi i colpi ad uno ad uno premendo Z tanto quanto serve. Per richiudere il caricatore, premete quindi R e sarete così pronti a sparare. Il revolver è l'arma più semplice da ricaricare, ma come vedete l'operazione è tutt'altro che immediata. Ricordatevi inoltre di raccogliere i proiettili buoni che avete fatto cadere durante la ricarica premendo G. Il tasto G servirà anche per raccogliere i nastri e gli altri oggetti sparsi per il mondo di gioco. I comandi per muoversi e sparare sono invece quelli classici di tutti gli FPS. Come vedete uccidere un nemico può richiedere un numero molto variabile di proiettili, quindi è bene avere l'arma sempre carica e funzionante. Inoltre in questo gioco basta un colpo per ucciderti. La difficoltà è perciò molto elevata e io personalmente non sono mai riuscito a finirlo. Poi a ogni avvio di partita le munizioni nel caricatore sono di numero casuale. E' quindi importante caricare subito l'arma al massimo prima di iniziare ad esplorare. Caricare un'arma automatica è un pelino più complesso. Per prima cosa togliete il caricatore dall'arma premendo E. Fatto ciò premete il tasto della O accentata sulla vostra tastiera, quello che ha anche la chiocciolina nelle tastiere italiane, e caricate i proiettili ad uno ad uno premendo Z come prima. Se volete togliere dei proiettili da un caricatore, ad esempio per trasferirli ad un altro, vi basterà premere R invece che Z. Una volta riempito il vostro caricatore riprendete in mano la pistola ripremendo il tasto con la O accentata e quindi ripremete Z per mettere il caricatore nell'arma. Se il caricatore era vuoto prima della ricarica, premete quindi R per mettere il primo colpo in canna. Se non lo farete la vostra arma non potrà sparare. Premere R quando un colpo è già in canna lo farà cadere, quindi in tali casi ricordatevi di raccogliere i colpi che seminate in giro. Questi comandi ovviamente valgono con la configurazione dei tasti di default. La randomizzazione dei livelli purtroppo è poco varia come in altri titoli di questo genere e i motivi li avevo ben spiegati nella recensione di Hellgate London. Ma in questo caso le texture praticamente inesistenti così come l'IA dei nemici e la trama che fanno altrettanto pena, rovinano un titolo che poteva avere un grande seguito. Forse una speranza per questo gioco potrebbe arrivare dai modder. Lo sviluppatore ha infatti reso disponibile a tutti gratuitamente il codice sorgente del gioco. Il link per scaricarlo lo trovate in descrizione. Sarebbero molte le cose da fare fra bug da fixare, miglioramento del mondo di gioco, e aggiungere un'IA e varietà ai nemici. A detta dei dev, Receiver è stato reso open source dopo che l'Apple Store ha permesso a uno sviluppatore pirata di copiare un loro gioco e venderlo a un prezzo minore. Da qui l'idea di rendere Open Receiver è vendere il titolo compilato su Steam. Ma c'è un problema. Il titolo tale e quale a quello ora presente su Steam era stato già pubblicato nel 2013 gratuitamente sul sito del contest a cui aveva partecipato. Tale link ora è stato fatto sparire e il gioco è venduto dalla piattaforma di Valve e da umble bungle al prezzo che vedete. Inoltre lo sviluppatore ha detto che non verranno rilasciate altre patch per il titolo e che i soldi guadagnati con Receiver saranno invece utilizzati per continuare lo sviluppo di un altro gioco fermo da anni. Questa è una truffa vera e propria. In pratica i soldi ricavati da questo titolo, che ricordo essere stato sviluppato con solo 7 giorni di lavoro, andranno solo ad arricchire questi stronzi senza nessuna garanzia reale per i giocatori e sprecando un'ottima idea. Ovviamente poi si rende il codice aperto, così che siano altri poveracci invece del team di sviluppo a correggere le falle e loro solo a farci i soldi lavorandoci praticamente zero. Se volete provare questo gioco vi inviterei quasi a craccarlo, ma forse l'idea migliore sarebbe ricompilarselo per ripicca senza spendere un centesimo. Questo titolo è il classico esempio di quello che Zeb chiama indie di merda e ricorda molto da vicino Got Simulator. Anche lui fatto per un contesto è venduto pieno di bug. Consiglio divamente quindi di non acquistare questo gioco. Arrivederci alla prossima.